La valle del fiume Narmada suddivide tutto il subcontinente indiano in due macro regioni, a nord l'Indostan e a sud il Deccan. La valle del fiume taglia da est a ovest praticamente la gran parte della penisola del subcontinente indiano e costituisce in realtà un luogo di confine, dal punto di vista degli insediamenti, dai caratteri delle regioni che si sviluppano a nord e a sud di questo confine. È un luogo molto particolare delimitato a nord dalla lunga catena dei monti Vindia e a sud dalla catena dei monti Satpura. Saverio Muratori ha elaborato nel suo atlante del territorio alcune mappe particolarmente interessanti proprio del subcontinente indiano, studiandone la strutturazione processuale dei percorsi di sviluppo antropico e di sviluppo delle ecumeni civili. In particolare sono molto efficaci nella rappresentazione dello sviluppo del territorio le minute di studio, sono dei disegni molto freschi, molto impattanti anche da un punto di vista grafico e una in particolare rende esattamente l'idea della importanza di questa struttura naturale del territorio, quindi la valle del fiume e le strutture di crinale che si affacciano lungo questa valle. Costituisce in realtà una delle linee di penetrazione principali che dalla piana gangetica, in realtà dalla pedemontana lungo tutto il sistema montuoso dell'Himalaya e poi attraversando la valle gangetica si sposta verso sud arrivando a conquistare appunto attraverso le catene montuose e quindi i crinari dei Satpura e dei Vindia tutta l'area geografica e il territorio del cuore del subcontinente per poi proseguire nel suo sviluppo verso sud. Nel 1823, nell'aprile del 1823, Aaron Aerosmith, idrografo di sua maestà Re Giorgio IV, pubblica una mappa molto interessante della regione di Malwa, la regione che insiste, che tiene al proprio interno proprio il crinale dei Vindia e dei Satpura. È una mappa che è stata utilizzata, che ho utilizzato personalmente per poter ricostruire la strutturazione dei percorsi del territorio, cercando di estrapolare quelle che fossero le informazioni che venivano dalla conformazione del suolo e quindi dalla conformazione e dalla struttura idrografica del territorio di questa regione in particolare. Quello che ci interessa però è invece evidenziare come fosse necessario naturalmente definire un sistema articolato di strutture territoriali che permettessero l'attraversamento della valle del Narmada in direzione nord-sud questa volta, quindi collegando i due mondi, appunto quello dell'Indostan e del Deccan, alla macroscala naturalmente del subcontinente, oppure a quella molto più piccola, ridotta della regione di Malwa, che consentisse quindi di muoversi da una sponda all'altra del fiume Narmada. Uno di questi percorsi di attraversamento, quelli che chiamiamo di controcrinale sintetico, tocca un punto nevralgico di tutto il sistema di crinale dei Monti d'India e che è appunto quello dell'altopiano di Mandu. L'altopiano ha una conformazione anche da un punto di vista del suolo che consente una facile difendibilità del luogo con una scarpata molto ripida su tutta la parte che si affaccia lungo il fiume Narmada. È una conformazione molto articolata nella parte orientale ed occidentale dell'altopiano che ne consentono appunto una agevole difendibilità e un controllo molto efficace dal punto di vista del territorio. Mandu è un sito che nel corso del tempo è stato sede di insediamenti molto importanti, anche precedenti rispetto a quelli che in età sultanale hanno dato l'impronta sicuramente oggi maggiormente visibile e che in qualche modo connota l'architettura e il paesaggio urbano dell'altopiano, che è appunto il periodo tra il XIV e il XV secolo con il governo della dinastia sultanale Calci. Ma appunto, come dicevo, Mandu è una regione che ha visto una importante presenza paramara nei secoli precedenti. Paramara governano la regione centrale di Malwa per un lungo periodo, dal IX al XIV secolo sostanzialmente e sono oggi sparpagliate sul territorio dell'altopiano tracce della loro presenza. Mandu, l'altopiano di Mandu è stato l'oggetto di un percorso di ricerca e l'attivazione di diversi laboratori di ricerca nel corso degli anni, a partire dal 2008-2009, sotto la guida del professor Petruccioli, laboratori di ricerca che hanno consentito di documentare la consistenza, i caratteri delle architetture e la conformazione dei siti che appunto in età sultanale Calci si sono costruiti e strutturati sul territorio operando degli interventi di manipolazione della struttura naturale per, come vedremo, aderire ad un disegno che corrispondeva esattamente a quello che era l'intento della dinastia Calci. C'è quello di costruire un ritiro di pace è equilibrio. Questo equilibrio, questa ricerca di questo equilibrio è perfettamente raccontata nel discorso di intronizzazione del sultano Ghiatuddin, che governa la regione di Malwa come sultano tra il 1469 e il 1500. Particolarmente interessante perché in quel discorso di intronizzazione Ghiatuddin fa esplicitamente riferimento al desiderio di costruire un luogo di pace e di armonia e di equilibrio, a partire proprio dalla capitale del regno. E questa idea di costruire un luogo di ritiro, di equilibrio, di pace e di armonia si sposa perfettamente con quelle che sono le caratteristiche del territorio, cioè con quella condizione di isolamento in un certo senso che l'altopiano di Mandu consentiva, proprio per la sua difendibilità, per la sua accessibilità attraverso alcuni punti specifici facilmente controllabili. Parte quindi un'operazione di ristrutturazione del territorio che è perfettamente rappresentata non soltanto dal discorso di intronizzazione ma anche da uno dei lasciati forse più importanti e più significativi del periodo sultanale che è questo Books of the Light, questo Nini Matrama, il libro delle delizie che viene commissionato dalla corte di Ghiatuddin che è ricco di rappresentazione iconografica, quindi ricchissimo di miniature, che rappresentano un mondo di tende, palazzi, paesaggi, tutti quanti legati ad una relazione strettissima, connotati da una relazione strettissima con l'acqua. È una sorta di mondo acquatico reso possibile dalla conformazione del territorio ma anche da una sapiente operazione di trasformazione di quello stesso territorio e questo è quello che avviene appunto durante la corte sultanale. L'alto piano di Mandu viene strutturato attraverso un percorso nord-sud che lo attraversa dal punto di accesso principale, quindi quella porta di Delhi di cui parlavamo prima, sino alla propagine più meridionale affacciata lungo la valle del Narmada e in corrispondenza di quello che sarà uno dei punti nodali più importanti di tutto quanto il territorio. Questo asse nord-sud è appunto polarizzato dalla porta di Delhi e a sud da uno degli altri elementi più significativi dell'epoca sultanale, cioè il grande Namazgah, quindi il grande muro Qibla che viene costruito sull'alto piano di Girat che è affacciato proprio sulla valle del Narmada. È in una posizione leggermente defilata in realtà ma che controlla la porta Tarapur a sud dell'altopiano che costituisce quindi l'altro punto di accesso e di accesso verso la valle dell'Narmada in realtà e quindi verso la regione meridionale, quindi verso l'altro mondo del Deccan, quindi l'altra sponda del fiume dell'Narmada. E invece un altro sistema abbastanza articolato che è l'enclave del palazzo di Baaz Badur e del padiglione di Rukmati. E questo asse nord-sud è quello naturalmente lungo il quale si strutturano i complessi principali che vengono edificati durante il periodo sultanale Calgi. Il sistema palatino che è posizionato poco a sud della porta di Delhi in una collocazione leggermente defilata e poi più scendendo verso sud, quindi scendendo verso la valle dell'Narmada, l'altro punto importantissimo, lo snodo di tutto quanto il sistema antropico dell'altopiano di Mandu che è costituito dal complesso della Moschea del Venerdì e della Shrafi Mahal di fronte ad essa, costruite tra l'altro in una posizione che ha echi di quei sistemi kosci del centro Asia, quindi con le due facciate una di fronte all'altra. E proseguendo ancora verso sud, lungo lo stesso percorso, poi si allineano altri due complessi estremamente importanti, quello del Dariakan e quello invece che fa capo alla Moschea di Malik Mughit. Lo snodo principale, quello della Moschea Jami e quello della Shrafi Mahal, quindi della Madrasa, la Shrafi Mahal, è tale perché corrisponde alla intersezione tra questo asse principale nord-sud e un controasse est-ovest, che anche questo polarizzato da due elementi molto importanti e che sono la testimonianza di quanto la struttura del territorio dell'altopiano di Mandu fosse chiaramente ben radicata anche in epoca pre-sultanale, cioè l'area delle Grotte Loani dove si trova un'altra porta importante e che è quindi caratterizzata da una strutturazione, da una conformazione, da una modellazione del suolo che ha elementi di chiara origine hindu e che quindi sono attribuibili molto probabilmente al periodo Paramara. È verso est un'altra porta molto importante che è presidiata da un altro edificio religioso, dalla Moschea Rampole. Porta tra l'altro che anche questa ha delle caratteristiche architettoniche e tipologiche e di linguaggio che la rimandano ad un periodo pre-sultanale e quindi probabilmente Paramara. Come avviene e dove avviene, attraverso quali strumenti viene realizzata questa operazione di ristrutturazione del territorio in epoca sultanale? L'asse nord-sud che abbiamo appunto visto essere la struttura lungo la quale si allineano i complessi principali è in realtà connotato dalla presenza di alcuni elementi della forma del paesaggio e della struttura naturale del territorio e del suolo che sono proprio i punti di accesso all'acqua, in particolare le sorgenti naturali. Queste sorgenti sono gli elementi a partire dai quali viene pensata il ridisegno del territorio. Perché questo? Perché queste sorgenti sono associate a delle aree leggermente depresse da un punto di vista della conformazione del suolo, che sono quelle attorno alle quali o sulle quali si costruiscono i principali complessi. Il complesso Palatino-Calgi infatti è costruito in maniera tale da rappresentare e mettere in forma quel paesaggio dell'acqua, quel mondo acquatico di cui abbiamo parlato prima. Il palazzo del Jasmaal è costruito in maniera tale da costituire una sorta di sbarramento tra due bacini in parte naturali e in parte artificiali che costituiscono gli specchi d'acqua dove appunto si riflettono le immagini della corte sultanale nel suo complesso. E la realizzazione di questi bacini è evidentemente il risultato della particolare conformazione del suolo. Ma la stessa cosa avviene in corrispondenza del complesso del Daria Khan, anche quello costruito con una strettissima relazione tra la presenza dell'acqua sorgiva che alimenta il Kund che fiancheggia il complesso principale della tomba appunto di Daria Khan, ma anche in tutto il sistema delle tombe, della moschea, del caravan serraglio che ruotano attorno all'aria del Malik Mughit. E la stessa cosa avviene in realtà anche per la costruzione del complesso del Baaz Badur, dove un sistema di pozzi e di acquedotti consentono di portare l'acqua all'interno del palazzo e quindi di replicare in una forma cristallizzata, solida, questo paesaggio delle acque anche appunto all'interno di un'enclave architettonica, un palazzo appunto costruito. Ma non soltanto perché ai piedi del sistema di Baaz Badur esiste un sistema molto articolato di sbarramenti che consentono di reggimentare i flussi naturali delle acque, quindi di controllarli e costruire quindi dei bacini, magari anche temporanei però che in qualche modo possano ribadire quella necessità di costruire un mondo delle acque, un mondo sospeso ecco diciamo sulle acque, un mondo leggero di appunto armonia e di equilibrio costruito sulle acque. Tutto questo facendo capo ad una capacità di intervenire con delle trasformazioni molto forti sul territorio che quindi richiedevano un dispegno energetico molto forte in termini di risorse per poter mettere in atto proprio questa radicale trasformazione della forma del paesaggio e che naturalmente doveva finire per scontrarsi con la possibilità che quelle risorse fossero sempre, eternamente o per un certo periodo di tempo disponibili. E naturalmente lo furono per un breve periodo di tempo, tant'è vero che Mandu per lunghissimi anni, per tre secoli buoni, è stata poi sostanzialmente dimenticata e riconsegnata. A quella sua condizione di perifericità in un certo senso, a quella condizione di ritiro del tutto naturale. E infatti oggi entrando nell'altopiano di Mandu, in questo paesaggio di rovine, di architettura e di memoria, non è difficile oggi trovare un muro Qibla utilizzato come aia, come delimitazione di un aia o di un pollaio. Questo semplicemente racconta della ciclicità dei processi storici e del fatto che Shadiabad, la città della gioia della corte sultanale Calgi di Ghiatuddin, ha avuto un periodo di splendore appunto tra il XIV e il XV secolo e oggi noi possiamo toccarlo con mano, andando a guardare la capacità di questi uomini di trasformare questo territorio, a immagine e somiglianza di una idea di armonia e di governo gentile del territorio, che ha dovuto poi cedere il passo ad altre trasformazioni e a nuove trasformazioni.